La cyber security è ormai un asset cruciale per le aziende poiché la crescente digitalizzazione e l'uso intensivo delle tecnologie espongono le organizzazioni a rischi sempre maggiori di attacchi informatici. La protezione dei dati aziendali è sensibile, è diventata una priorità strategica poiché le minacce cibernetiche possono causare danni irreparabili sia dal punto di vista finanziario che da quello reputazionale. Di questo e di tanti altri argomenti correlati si è parlato durante l'incontro cyber security e intelligenza artificiale applicata all'office organizzato da CNA a Matera. Ormai i giornali riportano ogni giorno notizie di attacchi informatici da parte dei pirati alle banche dati aziendali, dati che vengono restituiti solo a fronte del pagamento di un riscatto. Quindi è finita la stagione dei sequesti delle persone, è iniziata quella dei sequesti dei dati. Da parte dell'azienda c'è un blocco vero e proprio dell'attività lavorativa perché per un periodo, per un certo periodo, finché l'azienda non decide il da farsi, il tutto è bloccato e quindi i processi produttivi sono rallentati, sono addirittura fermati. Ci si difende da questi attacchi informatici installando il SOC, che è Security Operations Center, che monitora 24 ore su 24, ci sono 120 ingegneri in tutto il mondo che controllano questi attacchi. In più noi facciamo una formazione agli utenti per poter sensibilizzare sugli attacchi che ci sono in tutte le aziende. Nel corso del workshop sono stati analizzati anche alcuni casi pratici e discusse le ultime novità in tema di automazione dei processi aziendali, riduzione degli errori umani e miglioramento dell'efficienza operativa attraverso l'impiego di algoritmi, di machine learning e tecniche di elaborazione del linguaggio naturale.